Il sottosegretario agli interni, Buffarini Guidi, all'inaugurazione della casa del Vigile del Fuoco, sistemata a Villa Bellavista per iniziativa del Ministero dell'Interno. Il castello Bellavista fu eretto ai tempi del Granduca Cosimo III e sorge nei pressi di Montecatini, a valore monumentale per gli affreschi del pittore fiorentino Pietro Dandini. Le esigenze dell'adattamento della villa sono state conciliate con quelle della tutela artistica. La villa potrà ospitare 150 tra ufficiali e vigili, non compreso il personale di servizio. Nel fabbricato accessorio è stata sistemata una colonia elioterapica per i figli dei vigili, che potrà ospitare 200 bambini. Nel fabbricato accessorio è stata sistemata una colonia elioterapica per i figli dei vigili,